Anche nelle Marche, come nel resto d'Italia, è un momento interlocutorio della lotta al Covid-19, sebbene non si registri una pressione sugli ospedali degne di preoccupazione. Anzi, ottobre nelle Marche si è chiuso con un numero di ricoveri inferiore a quello con cui si era chiuso settembre. Però il periodo autunnale è quello potenzialmente più a rischio propagazione del virus e anche i dati di contagio marchigiani, quasi quotidianamente attorno alle 100 unità, invitano a tenere l'attenzione alta, soprattutto alla luce di una settimana che nel territorio si è chiusa col 65% di contagi in più rispetto a quella precedente. A livello marchigiano l'incidenza del virus è passata da 30 a 34 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Un dato in linea all'andamento nazionale, ma a differire dal resto del paese è il ritmo lento della somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-covid. Secondo i dati del Ministero della Salute, le Marche sono infatti al diciottesimo posto per quanto riguarda la somministrazione della dose aggiuntiva per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. Basti dire che su 138.000 marchigiani che attualmente possono ricevere la terza dose hanno deciso per l'inoculazione in meno di 28.000, ovvero circa il 20% degli aventi diritto. Fiacca la risposta degli over 80 e attualmente non esaustive nemmeno quelle degli ospiti della RSA. La vaccinazione è attualmente permessa anche agli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi e da un paio di giorni si è allargata a tutto il personale sanitario senza limiti anagrafici. Se si continua a seguire lo schema delle precedenti vaccinazioni, fra le prossime categorie potrebbe esserci l'apertura a insegnanti e personale scolastico per rinforzare la salvaguarda di un ambiente didattico che in questo finale di ottobre conta una cinquantina di classi in quarantena in tutto il territorio marchigiano. Attualmente la terza dose non decolla perché non sembra solleticare costrizioni stringenti al di là di una forte raccomandazione, soprattutto per quelle persone con uno stato di immunodepressione che attenua l'effetto delle prime due dosi.